signori buongiorno no nessun video nuovo volevo solamente fare un mini inserto per dire che abbiamo raggiunto i 100 iscritti sarà che sono un vecchio quindi ho cominciato a seguire youtube quando 100 iscritti era una cifra veramente importante oggigiorno in realtà sono pochissimi però comunque non sto a fare un intero video questo pezzettino cortissimo solo per dirvi che vi ringrazio tutti francamente quando ho aperto il canale non pensavo ad arrivare ai 100 iscritti vedrò di impegnarmi per mantenere la qualità quella che è stanno cominciando ad arrivare anche sempre più commenti la cosa mi piace perché chiedo interazione non voglio fare un video apposta non voglio interrompere la programmazione quindi adesso questo quando l'ho visto mi sono messo il giatto questo lo monto non so direvi quando uscirà però grazie a tutti il prossimo traguardo è quello dei mille iscritti quindi ne parleremo tra qualche anno mi sa io sono il master kai per questo video è tutto grazie a tutti grazie a tutti